buon pomeriggio a tutti ed eccoci ad una nuova analisi ciclica evoluta non ciclica normale su s&p 500 allora che cosa dicevo nella precedente analisi che l'inverso parlava chiaro e che ci sarebbe stata una prosecuzione del rialzo non soltanto fino ai 3000 ma anche oltre i 3000 su s&p 500 per cui che cosa è successo il mercato effettivamente ci ha portato già a 3060 punti quindi tutto corretto la centratura è corretta e vi faccio notare che rispetto agli altri mercati stiamo per andare ad arrivare a un ritracciamento di fibonacci dello 0 78 per cento quindi un recupero notevole in non tantissimo tempo cosa che non è affatto successo sul fuzzimi che attorno a questo livello qua a uno 0 38 di ritorno sui suoi valori e sta lateralizzando qua sotto piuttosto che è successo qualcosa di meno peggio diciamo al dax perché siamo arrivati un pochino oltre lo 0 50 per cento qui siamo andati stiamo andando verso l'ottanta per cento di recupero non so se rende bene questo genere di informazione relativamente alla forza di un mercato rispetto ad un altro per cui tutte le aspettative delle precedenti analisi corrette abbiamo che da qui sta partendo un nuovo annuale adesso lo posso segnalare meglio fatto da 36 più 12 barre quindi qui mettiamoci un bel il mio t più 4 vabbè è già un t più 5 sicuramente che ha fatto sempre in partire da qua anche trimestrale mensile bla 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 e abbiamo che il primo t più 2 mensile si è chiuso qui su questo minimo qua dopo 36 barre e secondo a cui bastava soltanto un t per ripartire un t rialzo un sottociclo di due gradi inferiore rialzo è partito da qua ed è già bello che che spedito come forza perché praticamente è già andato sopra i 2972 punti oltretutto abbiamo già la sicurezza che sia partito da qua per il semplice fatto che ci bastavano sei giorni a rialzo e noi ne abbiamo già 12 oltretutto il vincolo sull'inverso sta andando perfettamente per cui anche d'inverso tutto sta tornando in maniera perfetta direi siamo arrivati a 30 barre quindi ampiamente sopra il minimo di 24 barre che si possono avere per raggiungere la durata minima appunto di un t più 2 mensile inverso favoloso per cui torna tutto sta andando tutto secondo quelli che appunto erano i piani e qui appunto avevamo avuto la chiusura del primo t più 2 inverso e qui è partito il secondo quindi che cosa possiamo aspettarci per i prossimi giorni a parte il vincolo a ribasso dell'inverso che quindi ci farà andare su ok abbiamo che il nostro bisettimanale il t più 1 è arrivato a 12 barre per cui in questo momento iniziamo a vedere che oltretutto avendo fatto un 6 più 6 o qui hanno fatto uno scherzo estremamente cattivo e hanno chiuso un settimana le corto e infatti sto dando proprio un'occhiata a questo genere di cose che stanno palesando in questo periodo oppure dovremmo ancora andare a chiudere per cui questo è il punto di domanda in questo in questo momento da andare a verificare e ora non lo so possiamo sapere ci conviene avere perlomeno la giornata di domani anzi di lunedì una giornata di borsa aperta per fare le riflessioni del caso perché questo t settimanale può tranquillamente continua a salire fino al massimo di 11 giorni di durata o anche andare su per una poi chiudere a otto piuttosto che andare su per due e chiudere a nove a tutte le possibilità del caso per cui in ogni caso ha senso rimanere pro trend tenete conto che oltretutto vi è andato un forte segnale di forza perché per ora siamo andati sopra la media mobile a 200 periodi abbiamo cercato di superare quella 50 in 1 e 2 il terzo tentativo ci ha permesso appunto di passarla definitivamente anzi il quarto poi abbiamo sparato e siamo quasi arrivati qui siamo ritornati quasi ad appoggiarci abbiamo fatto i nostri cicli e poi siamo andati a rompere immediatamente c'è stata una prima una seconda e c'è una terza chiusura già al di sopra della media mobile a 200 periodi per cui questa è forza con una conferma con se rimarremo ancora sopra questa media che passa appunto attorno ai 3000 significa che tutto ciò che ho continuato a raccontarvi grande grande forza per quanto riguarda il le sempre 500 lo stiamo già riscontrando da tutte le cose che vi ho raccontato per cui ora il target ipotetico per la salita appunto rimane i 3.114 3.115 ok l'algoritmo mi dà è un pochino diverso rispetto al semplice ribonacci mentre invece bisogna fare estremamente attenzione perché se andremo sotto questo minimo a 2.969 avremo la condizione più che la condizione necessaria per andare a fare la chiusura del bisettimanale per cui qui a me non convince tanto ancora questa chiusura qua sono più convinto che per andare a chiudere tutta questa struttura tutto questo t più 1 bisettimanale si debba ancora proseguire ad andare ancora un po super poi andare giù per bene questo è quello che in teoria mi aspetto ma come detto preferisco aspettare che lunedì il mercato parli in modo da capire immediatamente l'orientamento d'accordo ringrazio per l'attenzione se l'analisi vi è piaciuta like pacca sulla spalla e ci sentiamo per la prossima anche perché devo ancora fare dax e fuzzimib se non sbaglio buon weekend a tutti